Musica Torna l'allarme meningite, donna di 64 anni ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Stefano. Cittadinanza onoraria al Vescove Merito Agostinelli, domani il conferimento in Consiglio Comunale, diretta su TV Prato. Oltre 1100 ragazzi non potranno sostenere l'esame di guida prima di Natale, liste di attesa di 6 mesi. Trasporto pubblico locale Prato, quinta livello nazionale per qualità del servizio. Una buona giornata dalla nostra redazione e bentrovate a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Come avete sentito dai titoli, la meningite fa la sua ricomparsa in città. È ricoverata infatti nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Stefano di Prato, una donna di 64 anni residente a Prato, alla quale è stata diagnosticata un'infezione da meningococco. Al momento sono in corso le procedure per la tipizzazione. La signora risulta non vaccinata, la prognosi resta riservata. L'unità funzionale di igiene e sanità pubblica dell'area pratese ha già avviato le procedure per l'indagine epidemiologica al fine di ricostruire luoghi frequentati dalla signora e ha già avviato le procedure di profilassi per i contatti stretti. Il Vescove Merito Monsignor Franco Agostinelli riceverà domani la cittadinanza onoraria. Il conferimento da parte del Comune di Prato avverrà nel corso del Consiglio Comunale che TV Prato seguirà in diretta. Vediamo. Il Vescove Merito Franco Agostinelli si appresta a ricevere la cittadinanza onoraria in Consiglio Comunale. L'appuntamento è per domani. Il riconoscimento è stato fortemente voluto dal sindaco Biffoni e dal presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Alberti, per ringraziare Monsignor Agostinelli per i sette anni di episcopato a Prato. L'annuncio della cittadinanza onoraria fu dato da Biffoni lo scorso primo settembre in cattedrale. Giorno del saluto della diocesi della città ad Agostinelli che la settimana successiva, il 7 settembre, avrebbe lasciato alla guida della Chiesa Pratese al successore il Vescovo Giovanni Nerbini. Anche a Monsignor Gastone Simoni il 25 settembre 2012 e a Monsignor Pietro Fiordelli il 13 febbraio 1992 fu consegnata la cittadinanza onoraria in occasione della fine del mandato episcopale a Prato. Ma torniamo alla seduta del Consiglio Comunale di domani. L'arrivo in Palazzo Comunale di Monsignor Agostinelli è previsto per le ore 14 e 30. Ad accoglierlo ci sarà il sindaco Matteo Biffoni che prima della seduta consegnerà al Vescovo Emerito il gigliato d'argento. L'inizio dell'Assemblea Cittadina è fissato alle ore 15. Dopo gli adempimenti di rito e l'esecuzione dell'ino nazionale di Mameli prenderà la parola il presidente del Consiglio Comunale Gabriele Alberti che darà il benvenuto a Monsignor Agostinelli. A seguire gli interventi dei capigruppo prenderanno poi la parola il presidente della provincia Francesco Pugelli e il presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni. Dopodiché sarà il sindaco Biffoni a rivolgere il suo saluto a nome di tutta l'amministrazione comunale al Vescovo Emerito che infine prenderà la parola. Al termine degli interventi ci sarà la cerimonia ufficiale con il conferimento della cittadinanza onoraria Monsignor Agostinelli. L'evento sarà seguito in diretta da TV Prato collegata col Salone Consiliare a partire dalle ore 14.45. Oltre 1100 ragazzi titolari del Foglio Rosa non riusciranno a sostenere la prova pratica di scuola guida alla prima di Natale. Le liste di attesa infatti sfiorano i sei mesi a causa delle carenze di esaminatori della motorizzazione civile di Firenze. Il Comitato Provinciale Repratese torna a chiedere la riapertura degli sportelli pratesi chiusi nel 2012. A Prato e Firenze ci sono ad oggi 8.627 titolari di Foglio Rosa ma soltanto 2.581 ragazzi potranno sostenere l'esame pratico di scuola guida da qui al 21 dicembre prossimo. Per quasi tutti si tratta del primo e unico tentativo che avranno a disposizione. La seconda prova, a cui avrebbero diritto in caso di bocciatura, non sarà loro concessa perché il Foglio Rosa, durata sei mesi, scadrà prima. I disservizi sono dovuti alla scarsità di esaminatori presso la motorizzazione civile di Firenze a cui anche gli automobilisti della provincia di Prato fanno riferimento dal 2012 quando gli sportelli pratesi furono chiusi e accorpati allo smannoro. A denunciare i problemi è Angela Castiello, titolare dell'autoscuola Il Maggiolino Tutto Matto ed esponente del Comitato Provinciale Area Pratese che da anni si batte per la riapertura della motorizzazione a Prato. Le autoscuole sono diventate l'ufficio reclami della motorizzazione e questo non è sostenibile perché io non sono l'URP della motorizzazione, io insegno, il mio mestiere è insegnare. Degli 8.627 fogli rosa attivi afferenti alla motorizzazione dello smannoro, 1.653 provengono da autoscuole pratesi, meno di un terzo, ovvero 498, potranno sostenere l'esame pratico prima di Natale. Chi non supererà la prova dovrà rifare il foglio rosa ed oltre ad affrontare i costi si dovrà rimettere in lista d'attesa, mettendo in conto di avere nuovamente un solo tentativo nei sei mesi di validità del titolo. Castiello fa notare che la motorizzazione allo smannoro deve far fronte ad un bacino d'utenza di 1.260.000 abitanti e che Prato è l'unica provincia toscana negli ultimi cinque anni ad aver aumentato i propri residenti. Il Comitato Provinciale Area Pratese è stato ricevuto nei giorni scorsi assieme ai rappresentanti dell'autoscuole pratesi dal prefetto Rosal Bascialla, che da tempo si è attivata per risolvere il problema. Sul caso è stato sensibilizzato anche il sindaco Matteo Biffoni e i parlamentari pratesi, che già portarono il caso all'attenzione del governo. Con la motorizzazione Pistoia, siccome già c'è un'interfaccia, perché autoscuole di Prato vanno a sostenere gli esami di teoria alla motorizzazione di Pistoia, allargare questo contatto anche per sostenere gli esami di guida. Quindi secondo me potremmo tentare questa strada, visto che la motorizzazione di Pistoia, ad oggi, i candidati che sono iscritti alla motorizzazione di Pistoia, dopo tre mesi, già fanno l'esame di guida. E noi invece dobbiamo aspettare cinque mesi anche di più. E quindi a mio parere potrebbe essere una soluzione tampone perché il nostro obiettivo è quello di rimettere la motorizzazione a Prato, perché ne abbiamo bisogno. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Brugge, nella zona industriale del Macrolotto 2, per un incendio divampato all'interno di una ditta tessile. Ad andare in fiamme è stato un macchinario da maglieria. L'incendio è stato domato in breve tempo ed è stata effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dell'area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio. E parliamo adesso di trasporto pubblico. Mentre la Regione accelera sull'affidamento definitivo del servizio ad Autolinea Toscana ed intima cap di cedere nel giro di un mese l'intera flotta di autobus, le officine, le sedi operative, Prato si piazza al quinto posto in Italia per qualità del servizio. Vediamo. Prato entra nella top 10 del trasporto pubblico nazionale. A stabilirlo è Olidu, motore di ricerca per case vacanze, leader a livello mondiale, che ha assegnato alla città laniera il quinto posto, inserendola tra le città più virtuose per i servizi legati alla mobilità urbana. La città laniera si posiziona alle spalle di Milano, Verona, Trento e Parma con un punteggio di efficienza pari a 9.6 e fa meglio di Padova, Salerno, Brescia, Livorno e Bologna. Secondo Olidu, Prato è una vera e propria chicca che merita sicuramente di essere visitata, al tutto reso molto facile dagli autobus e spostarsi anche economico, dato che il biglietto costa 1,20 euro, la tariffa più bassa insieme a Brescia tra le città inserite nella top 10 d'Italia. Un ottimo riconoscimento per K Autoline e per tutti gli enti impegnati a rendere sempre più efficiente e all'avanguardia il trasporto pubblico nel bacino pratese, commenta il presidente della provincia di Prato, Francesco Pugelli, secondo il quale questo gradimento conferma che la strada intrapesa a sostegno del trasporto pubblico locale è quella giusta. Il territorio pratese ogni anno investe nel trasporto pubblico locale oltre 5 milioni e 100 mila euro, di cui 110 mila euro solo da parte della provincia di Prato, a livello regionale siamo il territorio provinciale che investe di più nel trasporto pubblico, sottolinea ancora Pugelli. Prato dunque si gode un posto nella top 10 d'Italia del trasporto pubblico locale in attesa di conoscere l'esito del braccio di ferro fra Mobit, il consorzio di cui capo e capofila, e la regione toscana sull'affidamento della gestione del servizio. Prato prima in Italia per numero di imprese artigiane interessate alla domanda turistica e particolari nel servizio. La provincia pratese è al primo posto in Italia nella speciale classifica dedicata alle imprese artigiane interessate alla domanda turistica. Il dato emerge dal report dell'ufficio studi di confartigianato. A livello nazionale, alla fine del primo trimestre 2019, le imprese artigiane operanti in attività economica, vocazione turistica, rappresentano il 16% dell'artigianato totale. Un dato che balza al 35,9% se rapportato alla nostra provincia. Quindi un distretto dinamico, capace di cogliere le opportunità. In un caso specifico come questo, le opportunità date dal turismo. Chi potrebbe mai pensare che Prato, una città a appena 20 km da una capitale come è Firenze, che è veramente una culla di cultura, ma anche una grande capacità attrattiva, possa essere addirittura davanti a Firenze nella classifica che vede le imprese artigiane potenzialmente interessate direttamente o indirettamente al turismo. Che cosa vuol dire? Grande capacità da parte degli imprenditori pratesi di cogliere quelle opportunità che si presentano continuamente, in un evolversi continuo di quello che è oggi l'attività che viene svolta da chi vuol mettersi in gioco. Quindi distretto, capace di offrire opportunità, ma soprattutto distretto, capace di cogliere le opportunità. E con Fartigianato è l'emblema veramente più chiaro di quello che può fare un'associazione per permettere a coloro che vogliono cimentarsi, anche in settori nuovi, avere le possibilità e le carte vincenti per riuscirci al meglio. Strade più illuminate e sicure in Commissione 3. È stato fatto il punto sui prossimi interventi in programma. Entro la fine del 2019 verranno sostituiti, sulle principali direttrici del territorio, oltre ai 5.000 corpi illuminanti con nuove luci a LED di ultima generazione. Tra le strade interessate agli interventi, Viale Leonardo da Vinci, nel tratto tra Prato Est e Viale Unione Europea, Via Paronese, Via Liliana Rossi, Viale Fratelli Cervi, Via Lende, Viale 16 Aprile fino al confine con Poggio a Caiano, Via Roma nella zona di Castelnuovo, Via Le Marconi, Via Valentini, Via Galcianese e Via Bologna. Siamo riusciti già a sostituire dal 2014 ad oggi circa un terzo dei punti luci cittadini. Entro la fine dell'anno altri 5.000 ne verranno sostituiti. Entro il 2028 avremo la sostituzione complessiva di tutti i punti luci cittadini con una tecnologia più avanzata a LED che ci permette di risparmiare risorse e allo stesso tempo illuminare in maniera molto più appropriata. D'altro canto ci sono tante richieste anche da parte dei cittadini di illuminare altri punti e noi ci stiamo attrezzando per trovare delle nuove risorse e per dare risposta anche a tante soluzioni che ancora ad oggi necessitano appunto di un nostro intervento da un punto di vista dell'illuminazione. Quali sono le zone più critiche, magari quelle dove ci sono più richieste comunque? Ma attualmente sono soprattutto i giardini, le aree di sgambatura sono quelle aree nelle quali probabilmente è stato fatto uno studio meno approfondito e anche perché noi soprattutto nelle aree a verde la zona diciamo così giorno, notte dovrebbe avere un maggior rispetto soprattutto per quanto riguarda la flora e la fauna mentre invece i cittadini ci richiedono una maggiore illuminazione per la sicurezza. Il punto della situazione è stato fatto nel corso della riunione della Commissione Consigliare 3 Mobilità, Trasporti, Lavori Pubblici e Sicurezza Urbana presieduta da Paola Tassi durante la quale sono stati presentati gli interventi eseguiti fino ad ora. Qualche numero, sono 24.495 lampioni ad oggi presenti in città, 501 in più rispetto al 2014. Un aumento dei punti luce che è andato di pari passo con il calo dei consumi che sono diminuiti del 20%. Allo stesso tempo negli ultimi 5 anni è aumentato del 23% l'efficientamento energetico. La Fiorentina parteciperà all'udienza preliminare fissata nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Davide Astori in qualità di persona offesa per solidarietà e vicinanza alla famiglia del Capitano Viola ma non si costituirà parte civile. L'annuncio è legale della società Viola in occasione del rinvio al 5 dicembre prossimo dell'udienza preliminare, prevista ieri ma saltata a causa di uno sciopero dei penalisti. Partecipando all'udienza preliminare al processo in qualità di parte offesa la Fiorentina potrà presentare memorie e interloquire col giudice ma non ottenere un eventuale risarcimento del danno come invece è previsto per la parte civile. A costituirsi parte civile saranno invece i familiari di Astori. Nel procedimento imputato per omicidio colposo il medico-pratese Giorgio Galanti come direttore sanitario del Centro di Medicina per lo Sport di Careggi. Galanti ha spiegato il suo legale e potrebbe chiedere il processo in rito abbreviato. E passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buona giornata a tutti, un saluto dalla sala metodo del Consorzio Lamma. Andiamo a vedere le ultime immagini che ci giungono al satellite, immagini che ci mostrano la perturbazione che andrà a interessarci nel corso della giornata di domani. Ancora sul Mediterraneo occidentale la situazione risulta piuttosto bloccata a causa della presenza di un robusto campo di alta pressione sull'Europa orientale che impedisce l'avanzamento rapido della perturbazione verso Levante. Quindi questa perturbazione tenderà ad arrivare piuttosto lentamente e risulterà anche piuttosto bloccata nel corso della giornata di domani. Ma andiamo a vedere la previsione per il pomeriggio di oggi. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso con tendenza ad un aumento della nuvolosità nel corso soprattutto della serata, soprattutto sulle zone costiere. Sulle zone interne avremo un cielo al più velato. I venti soffieranno ancora dal sud-est e scirocco con rinforzi sul litorale. I mari saranno in prevalenza mossi. Temperature senza variazione di rilievo con valori massimi ancora ampiamente al di sopra delle medie del periodo fino ai 25-27 gradi sulle zone più interne. Per la giornata di domani, abbiamo detto, arriva la perturbazione. In mattinata le piogge tenderanno a interessare soltanto in prevalenza le zone costiere e le zone nord-occidentali. Nel pomeriggio invece precipitazione un po' su tutto il territorio, con anche qualche temporale sparsa in prevalenza sulle zone costiere, sull'arcipelago dove potranno anche risultare intensi. I venti soffieranno ancora dal sud-est e scirocco con rinforzi sul litorale, sull'arcipelago dove potranno risultare forti. I mari saranno mossi o anche molto mossi sul settore meridionale. Le temperature in diminuzione nei valori massimi. È tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. Ed è tutto anche per noi. Il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.